In servizio al seggio rigorosamente con il Green Pass. A Palazzo San Francesco sono stati sorteggiati gli scrutatori dei 27 seggi sul Monesi in vista delle operazioni di voto per la prossima tornata elettorale del 3 del 4 ottobre. Gli effettivi sorteggiati dalla Commissione elettorale preseduta da Anna Maria Casini, Francesco Perrotta e Mauro Tirabassi sono 108, altrettanti sono i sostituti. Per ogni sezione ci saranno quattro scrutatori a cui si aggiungeranno il presidente di seggio accompagnato da un segretario. I nomi dei sorteggiati non sono stati ancora diramati ma i detti interessati hanno ricevuto la comunicazione nelle prossime ore. Appariranno sull'albopretorio del sito istituzionale del comune di Sulmona. Particolari disposizioni sono arrivate per coloro che andranno a occupare i seggi 14, la badia che raccoglie voti a Serafele, la 26 l'ospedale, la 26 bis che dovranno essere muniti di Green Pass. Il motivo è da rintracciare nel fatto che gli scrutatori dovranno recarsi strutture di ricovero per i malati. L'emergenza Covid lo scorso anno portò a una paura di entrare a contatto con possibili positivi e quindi a una diserzione da parte degli scrutatori titolari, un fenomeno che sarà monitorato nelle prossime ore.